Grazie a tutti voi Molto contento di essere qua, di incontrare Fabio Cartillo e lavorare con lui Allora, quello che è stato ideato per questa sera è stato un menù che racchiuda un po' tutto quello che è la tradizione Un cibo da strada Poi siamo in una via che correga a mare per il centro città Quindi da qua passava a chiunque tutta questa via e si soffermava in tutte le chiude per incontrare qualcosa di diverso Stasera abbiamo fatto un incontro con Gioacchino della città popolana palermigiana La sua è una bella rificazione che ha avuto con i piatti Io ho cercato un po' da bere un po' più grezza Nel senso di dare il prodotto quello che una volta si mangiava in strada E qui a me c'era l'occasione di mangiare queste cose Però seppure c'è i figli, i genitori, con la mia attenzione che è il prezionale Oh relax E qui a me c'era l'occasione di mangiare queste cose E qui a me c'era l'occasione di mangiare queste cose E qui a me c'era l'occasione di mangiare queste cose Grazie a tutti.